Amo il dolce, ma è meglio il salato. Marco e Luigi vanno alla riunione. Non mi piace il pesce, ma amo la carne. Ho voglia di uscire. Ma ho molto da fare. Dopo cena leggo libri o guardo film. Prendo il treno o l'autobus per Pisa. Non ho studiato, ma passerò l'esame. Bevo il caffè, ma preferisco il tè. Non mangio carne né pesce. Vado al mare o in montagna in vacanza. Vuoi la pizza o la pasta per cena? Ho fame, ma non ho tempo di cucinare. Ho visto il film, ma non mi è piaciuto. Luca è stanco, ma oggi si allena. Dove sono i miei occhiali? Non li trovo più. Questi prodotti li puoi trovare in centro. L'auto è così vecchia che non la guido più. Lisa ha l'appendicite. La operano domattina. Ho due settimane di ferie e le passo al mare. Questa casa è di Silvio. La affitta in estate. Ho molte foto, ma non le guardo spesso. Ho comprato un libro e lo leggo oggi. Mi piace la pasta, ma non la mangio più. I miei compagni non li vedo da vent'anni. Bello questo costume da bagno. Lo prendo. Le chiavi le dimentico spesso a casa. La mia giacca nuova la metto domani. Luca non è venuto oggi. Dopo lo chiamo. Quanti di voi vanno al cinema domani? Quando ti svegli la mattina? Alle sei e mezza. Quanto costa un caffè? Due euro e cinquanta. Quanti animali hai? Un cane e due gatti. Dove abiti? A Venezia? No, abito a Milano. Come te rovi i nuovi vicini? Sono simpatici. Quali libri stai leggendo ultimamente? Quanto stai in vacanza? Circa un mese. Chi conosci in quella scuola? Solo Luca. Quanta gente è venuta alla tua festa? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo cibo preferito? La pizza. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai finito la scuola? A diciotto anni. Tu ti chiami Stefano. Quanti anni ha tuo figlio? Loro sono i miei amici. Mi piacciono gli spaghetti. Mio figlio va a scuola. Lui regala i suoi giochi. Voi venite a casa stasera. Noi abbiamo quindici anni. Noi facciamo i compiti per domani. Loro vogliono studiare qui. Io mangio una pizza. Non voglio andare al cinema. Qui a destra c'è il bagno. Come stanno i tuoi figli? Di che colore è l'auto? Possiamo giocare a calcio? Certo che potete andarci. Vanno alla scuola media? Perché non fate i compiti? preferisco giocare a carte. Lei si chiama Claudia. Lisa è partita per le sue vacanze. Maria ha piantato le rose in giardino. I ragazzi sono partiti con l'auto. I ragazzi hanno visto la partita. Giulia e Nina, perché siete uscite? A cena Marco ha mangiato tutto. Gli altri sono rimasti a digiuno. Noi abbiamo studiato tutto il giorno. Noi siamo stanchi di giocare a calcio. Ieri siamo andati via molto tardi. Voi avete studiato per l'esame di oggi. Io sono andato a Firenze due anni fa. Tu sei diventato svogliato e stanco. Tu sei diventata molto più curiosa. Accelerare. Rallentare. Dare. Ricevere. Buttare. Raccogliere. DIMINUIRE. AUMENTARE. STRINGERE. ALLARGARE. TIRARE. SPINGERE. MOTIVARE. DE-MOTIVARE. BAGNARE. ASCIUGARE. SCENDERE. SALIRE. INCARTARE. SCARTARE. SCARTARE. LASCIARE. PRENDERE. PRENDERE. COSTRUIRE. DEMOLIRE. DEMOLIRE. RISPARMIARE. RISPARMIARE. RIPARARE. RIPARARE. ROMPERE. ROMPERE. ANNOIARTI. LEGARE. SLEGARE. VENDERE. COMPRARE. ACCENDERE. SPEGNERE. GALLEGGIARE. GALLEGGIARE. ASCUDARIO. AFFONARE. ERE. RIDERE. FIANGERE. FIANGERE. MUOVERSI. 業. FERMARSI. DECOLARE. Sussurrare. Sussurrare. Urlare. Perdere. Vincere. Riuscire. Fallire. Ingrazzare. Dimagrire. Iniziare. Finire. Allungare. Accorciare. Andare. Venire. Riempire. Svuotare. Riscaldare. Raffreddare. Quel libro è migliore di questo. Oggi va meglio di ieri. Loro vivono meglio di noi. Oggi va peggio di ieri. Loro vivono peggio di noi. Qui si vive meglio che altrove. Questa bibita è buona. l'orologio funziona bene. Il caffè è peggiore del tè. Sei arrivato prima di me. Sono a casa. Fra tre giorni parto. Ho un regalo per te. Viaggio in treno. Ero. Ero con Luca. Vengo da Roma. Vado a piedi. Il libro di Maria. Mi siedo su una sedia. Sono in piazza. Esco da casa. Dormo in tenda. Lo chiedo a te. Sono tra due auto. Ti scrivo da lontano. Sono per strada. Sono di Venezia. Da noi piove. Io sono alta e bionda. Noi siamo alte e bionde. Sei ingegnere? Siete ingegneri? Lui è russo. Io polacco. Loro sono russi. Noi polacchi. La macchina è vecchia. Le macchine sono vecchie. Il faro è spento. I fari sono spenti. Mio fratello è grasso. I miei fratelli sono grassi. Lei è contenta. Loro sono contente. È comoda la sedia? Sono comode le sedie? La zia è in Romania. Le zie sono in Romania. Io sono di Roma. E tu? Noi siamo di Roma. E voi? Ogni mattina, alle 8.55, esce con la giacca a doppio petto tutta abbottonata, il cappello calcato in testa. Cammina dritto e senza distrazioni fino al portone dell'ufficio, dove entra alle 9 in punto. Attraversa l'anticamera, passa davanti ai tre sportelli per il pubblico, spinge la porta vetri con una mano, togliendosi con l'altra il cappello. Saluta i colleghi e va a prendere posto al suo tavolo. Appena seduto, apre un registro, poi si accende la prima sigaretta e incomincia a lavorare, lento e preciso. A presto. 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 A presto.